Ho visto delle buone cose, l'idea di gioco che vogliamo fare ho visto in alcuni frangenti, sicuramente hanno cercato di fare quello che gli chiedo, da questo punto di vista sono contento, c'è da migliorare, però bisogna anche tener conto che siamo da nove giorni insieme, sono tanti giocatori che sono assenti, ne abbiamo alcuni che si stanno integrando, stanno comunque conoscendo un nuovo modo di allenarsi, un nuovo modo di giocare, una nuova mentalità, una nuova idea di gioco e quindi stanno entrando nei nostri meccanismi, da questo punto di vista sono contento, però so benissimo che c'è tanto da lavorare e il lavoro non mi spaventa. Mancavano i protagonisti, come diceva lei, i giovani si sono fatti l'anno? Sì, no, no, ma noi dobbiamo essere tutti protagonisti, quindi i calciatori sono sempre al servizio della squadra e il collettivo è quello che conta, questo deve essere sempre una nostra prerogativa, pensare con noi e me col Dio. Ricominciamo un altro anno, vogliamo farlo da protagonisti, vogliamo ripetere la stagione che ci ha visto l'anno scorso, sappiamo benissimo che sarà molto molto difficile perché incontreremo squadre come Milan, Inter, Napoli, Roma, Lazio stesso, Udinese che sono molto attrezzate. Secondo lei qualche tassello è necessario ancora in questa Juve? Ma parlo sempre quotidianamente con i miei dirigenti e quindi sappiamo benissimo quello che c'è da fare, ma ce lo teniamo per noi. Grazie, grazie a tutti.